Bentrovati su Scenari Economici, oggi parliamo invece di lotta al contante e di una cosa estremamente grave che sta succedendo nel Regno Unito, la banca NatWest, una banca con 22 milioni di conti correnti, ha deciso di limitare i versamenti per lievi in contanti, soprattutto i versamenti, ora non sarà più possibile, almeno a partire del prossimo mese non sarà più possibile depositare più di 3 mila sterline in contanti, 24 mila sterline nell'arco di un anno, si tratta di una limitazione molto grave, perché come capite la cifra di 24 sterline a livello anno è minima, anche considerando che nel Regno Unito fino a 85 mila sterline non è neanche necessario prendere la partita IVA, si è considerati un piccolissimo imprenditore. Questa banca è una banca poi tra l'altro controllata dallo Stato, nel senso che lo Stato ne possiede il 39% dopo che intervenne nel 2008 nel suo salvataggio, tra l'altro questa banca è stata anche protagonista recentemente di uno scandalo piuttosto grave con Nigel Farage a cui la sua controllata cauz tagliò il conto corrente. Ora vi invitiamo a venire su Scenari Economici e leggere tutta la notizia che è molto succosa e come detto molto inquietante perché la sparizione in contante è una forte limitazione delle libertà personali. Grazie a tutti e a presto.